84 a me ha vinto valentino oh hai soldi dammeli a me però a chi gli dà i soldi hai fatto studare tuo padre adesso può scendere la seglia facciamo una pausa ci voleva una pila uno spumantino ma quelli dobbiamo fare metà per uno valentino no sono tutti su e ponta li mettili qua che li contiamo metti prima quelli grossi mamma guarda 1 2 3 4 5 6 aspetta 6 adesso facciamo così 2 e 2 quanti sono? 2 più 2? e 4 bravo e 4 più 1? 5 e 5 più 1? 6 6 bravissimo e questi sono 50 centesimi e 50 centesimi sono ancora 1 quindi 6 più 1 e 1 2 3 4 5 6 7 6 più 1 sono 7 7 euro c'hai via bravo Valentino devi darle anche al nonno qualcuno no? no grazie tu dici che eri amico faccio io non senta la tua prima tombola è subito vinto senti dove è il tuo coso? della peppa vale? la peppa piga la peppa piga la peppa piga ce la leva ce la leva e lasciare un bacio ma ti trovo tombola vuoi farla ancora? no adesso lo faccio io adesso faccio io tombola facciamo farla nonna? io no e come vuoi giocare? e questi? questi li devi mettere a posto io non voglio e tu vai a vedere un po' i cartoni noi giochiamo a tombola un po' no? io non voglio più giocare non dovete giocare neanche voi non è aperto bene giusto? e come vuoi giocare? io non voglio più ma non vuoi mamma mia come facciamo noi